Musica Prosa selezione al desu presidente desa regione e desu costizzo regionale desa Sardigna Es previdi uno contributo propermittere su vota sos elettore Sardos iscritto sa sanagrafe italiana residentesi sestero Procuso schizun facendresa procedura d'iscrizione attestada da es ufficio consolare desi Stado estero de provenienzia Presor dipendenter del ruolo desi Stado in servizio in sestero e presor militare italianos in servizio in sos ufficios e sasi struttura ardesanato il sestero Su contributo previdi una legge regionale es conforma sasi spesa dei viaggi su stegni al finza sa uno massimo Dei 2.50 euro prosos elettores che arrivano dai paesi europeoso e dei millieuro prosos elettores che arrivano dai paesi extraeuropeoso Se elettore deve compilare sa documentazione in sor modello disponibile se è consegnata a su comune di appartenenza Tutte usate informazioni e sa documentazione sa cattano in su sito internet desa regione autonoma desa Ardigna Nando Tagliacozzo è stu un signore romano che in su sultimo urbintichimbanno sa contau a susi studenter de tutt'Italia Comente a perdus a famiglia sua in sos annor desallezze razialese desorrastrellamentose desar deportazioni sin sollager Sa mamma, mastra elementare licenziata in su 38, su babbu, sa sorre, sa iaia e uno scantor zior de portauso Chi non sono torrao spruso Si storia sua personale prova a vedare di una desaspagina spruso horrorosa desistoria Chinando Tagliacozza contau costumanzano a sospizzinnosi a sa spizzinner desistituto ciusa de Nugoro Un'istoria che è diventata una graphic novel, un conto pintau, un san pietrino dorato Sa autore Luca Esposito, grafico classe 1997 e sta amico di pizzinnia desu nepode de Nando Atta cominciare sapa du 20 de janario in Sant'Annaresi in occasione desa die desa memoria Sei otto turnè desi spettacolo teatrale Storia di un uomo magro Desattore e regista Paolo Vloris Ispirau desu romanzo La ghiandiona ciliegia Desi scrittore e giornalista Giacomo Mameli Un'ubiazza in sistoria abbarrata a tempur meda in sirmentico de Vittorio Palmas de Perdas Simbolo de medasomines comunes chisagherres orrore desollager nazistas anna vatteroese Su traballo teatrale l'ana rappresentava in Sesteropuru In Saso Universitade de Parigi, Oxford, Malaga, Aix-en-Provence E desu vinti degli annari a subinti de Vrevalio Atta zirare sei chi localidades in chimbe regiones italianas Grazie a sorganizzazione desuosio culturale Pane e Cioccolata Kinsa zudu desa fondazione desa Ardignia Sa collaborazione di undichi amministrazione sculturale desa Iscolasa E desuosio nazionale partigiano desa Vasi Si spettacolo ideo dai Paolo Vloris Chi custano ata per i sar musica desa artista Pierpaolo Vacca Conta s'istoria di Vittorio Palmas Sarvao pro miracolo dai sorrore desu campo d'esterminio Sorrito su voo cu os omine mudau in bestia Su vim desa vida vi presa sa natura Essa magia desu carrasecare nostru Su tempur desa purificazione, su tempur desa terra mama Saperi sa iana soverano chi las sa tacode a si berru Su tempus di ammaneare il rito A sprovavorire fecundidade e fertilidade Chi sian dei profetto e dei bundu Prosannada agricola Chi nuata a estentare e scampiare sa conca Sa prima essia desuorque e monti arvu E desa saterar mascarar desu carrasecare tradizionale Sinis Colesu Aperto chinsa a presentazione desu vilm curzu Desu regista Antoni Conzu Chi conta desa guerra intresuomine sa natura Protagonista sorcu, su guardiano, su tintinnattu, sa partoria e su boe jacu E grazie a s'impinno desuorque e monti arvu Chi in tini scuole storrava a bida Custu carrasecare antico patrimonio De una comunità d'intrega Su chi non è stato appassionato a noi Come a Zovio, di Pizzino Ordeida Come a te gruppo Quando abbiamo cominciato a leggere i suoi libri Comunque da Angios Casales e Tina Moretti Chi fai dai metà di siniscola Chi su carrasecare antico In metà inteso e in metà potente E abbiamo tornato a vedere Che comunque il rito che sa chiamano anticamente Il rito agrario Può simbognare a Deo Può tenere un anno mezzo della orese O del latte o del bestiamone Comunque è grasso Sacchiano su sacrificio E abbiamo tornato a fare Con questa maschera Che a noi siamo stati appassionati Siamo entrati in merito Abbiamo scoperto che in Sardina Teniamo una ricchezza De poter fare che le vede Tutto canto E senza manco tenere Né rigonza Non siamo provocati nulla di nuovo Però siamo tornati a scoprire Che chi ne ha dimenticato E anche in parte Dessa cultura nostra Dessa identità nostra Come a Sant'Antoni Sapeste che è piccata da un monte Sapeste sacrificare Sì mazzata Sì domata Però su dei cassetti Deveare Io Vesso sacrifici Sì domani Sì domani E tremizza persone Decada ed ade Secondo Sosorganizzatore Scordina Orda Su direttore artistico Alessandro Acchenza Chi collabora Che s'assessore Adesuturismo Elisabeth Vargi Sedizione De cui stanno Ata esser diversa Che in Sardina Desasi sfilata Soporta idee Desa strese Soscar Ornò Anna require Ma Anna barrare In curso Matteotti In questa maniera Sazente Ata poter Arziara Supra Mirare Comente Soscar Semur fa vedanda De operar De arte Artigianales Susindico A sottolineare O chisapunner Dei spassiare Sazente Che a tacudire A tempio Prosucar Rasecare In un'atmosfera Allegra e brullera Gaeko Mentesunu Sostempieso Sprocarattere A A A A A A A A